La crisi del III secolo d.C. dal 210 al 275 d.C. fu un periodo difficile per l'impero romano, segnato da un declino militare, politico ed economico. Essa ebbe un impatto significativo sull'evoluzione dell'impero romano, portando alla fine dell'età imperiale e all'inizio dell'età tardantica. Dal punto di vista politico, la crisi del III secolo fu caratterizzata da una fase di anarchia, a causa delle rivolte interne e dalla formazione di regni autonomi. L'impero delle Gallie nell'Europa occidentale, dal 260 al 284, e il regno di Palmira, composto da province asiatiche ed Egitto, e dalle difficoltà nel controllo dei confini, a causa delle invasioni da parte di popolazioni esterne, i Quadi, i Marcomanni, i Sassanidi e le tribù berbere. L'impero romano fu costretto a concentrare le sue forze per proteggere i confini dall'avanzata dei barbari, il che portò a una diminuzione del potere centrale e alla formazione di governi locali più autonomi. Il Senato assunse un ruolo sempre più marginale, mentre aumentò notevolmente il potere dei generali a capo degli eserciti. Dal 235 al 284 vengono nominati dai propri soldati ben 28 imperatori. Dal punto di vista economico, la crisi del III secolo fu caratterizzata dall'aumento dei costi per mantenere l'apparato militare amministrativo dell'impero, che portò ad un incremento delle tasse e dell'inflazione. Ciò causò l'instabilità economica, che portò alla diminuzione della produzione agricola, all'aumento del brigantaggio e alla riduzione dei commerci. Inoltre, la moneta romana fu svalutata e si ritornò parzialmente al baratto. La situazione di generale insicurezza e ritorno al baratto determina una contrazione significativa degli scambi commerciali. In definitiva, la crisi del III secolo fu un momento di grande difficoltà dell'impero romano, che contribuì in parte alla sua decadenza o trasformazione in una ben diversa realtà geopolitica.